Sarà restaurata la prossima settimana la facciata di Palazzo del Carmine dopo l'affissione dei banner del Giro d'Italia, affissione che ha deturpato il volto della sede del comune. Sono 58 i buchi che hanno trafitto la pietra di Sabucina dopo l'intervento della sovrintendenza che in un primo momento è stata bypassata e infatti nessun permesso è stato chiesto dal sindaco per rapporre i manifesti in un palazzo di tardo 800 con il vincolo della sovrintendenza. Sarà adesso la restauratrice Giovanna Comessa al momento impegnata sugli affreschi della volta della Sala Gialla che preparerà la Malta che poi una ditta specializzata porrà. L'intervento sarà gratuito. La sovrintendente ha chiesto di visionare i lavori dove sarà presente Daniela Vullo, architetto direttore di molti lavori di restauro di opere monumentali di grande importanza storica. Sarà dunque sua l'ultima parola sulla corretta esecuzione dei lavori.